Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida usa diverse zipline all'autorità. L'autorità è l'ex agenzia, questa qua. La sfida è molto semplice, vedete attorno all'autorità ci sono diverse zipline, dovete usarle tutte, sono 8, quindi dovete usare 8 zipline, cioè tutte le zipline, praticamente per fare la sfida. Vedete ci sono sia internamente che esternamente, sono 4 interne e 4 esterne. Tutto quello che dovete fare è utilizzarle, quindi una alla volta mi mettete qui ad esempio, premete il pulsante e la utilizzate, dopodiché tornate indietro ed usate le altre. In questo modo qui completerete la sfida.